Contrario. Favorevole. 10.10. Contrario. Favorevole. 10.15. Scusi, 10.15. Pagina 2, 5, 8. Favorevole. Favorevole. 10.17. Favorevole. Ci rimettiamo all'Aula. 10.18. Contrario. Contrario. Tutte e due contrari? Sì. Perfetto. 10.19. Favorevole. Favorevole. 10.500 della Commissione. Sperimento all'Aula. Aula. Aula. Non ci sono aggiuntivi, quindi passiamo ai voti. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. La ringrazio. Allora, 10.9. Duva. Contrario. Prego. Onorevole Duva. Grazie, Presidente. In prima Commissione sono stati eliminati passaggi essenziali riguardanti lo stato giuridico, ricercatori e tecnologi. Ora, premesso che questo argomento meriterebbe un dispositivo di legge ad hoc, resta il fatto che sicuramente sarebbe un buon passo avanti fare un passo indietro, ovvero tornare a come il testo era prima di passare per le mani della prima Commissione. Si dovrebbe ripristinare un dispositivo, cioè con questo emendamento si chiede di avviare un primo riconoscimento dei ruoli ricercatori degli enti pubblici e della Carta europea dei ricercatori, dando così un concreto e immediato impulso al sistema ricerca del Paese. Presidente, cosa potremmo avere con questa Carta di ricercatore europeo, riconosciuta così come chiediamo nell'emendamento? Si creerebbe una cornice comune per tutti i ricercatori e tecnologi, favorendo la circolarità tra gli EPR, gli enti pubblici di ricerca, le università e altri istituti, creando un meccanismo di fatto virtuoso, perché a quel punto questi istituti...